... Devastazione ed orrore, questo lo stato d'animo dei cittadini di Raffrontolo nel Tredigiano, colpiti nella notte tra sabato e domenica da una bomba d'acqua improvvisa, mentre era in corso una festa locale. Il bilancio provvisorio è di quattro morti, venti feriti, uno in gravissime condizioni e due dispersi. Il governatore Veneto Zaia ha sorvolato i luoghi della devastazione, parlando di scenario apocalittico e proclamando subito lo stato di calamità naturale nella zona interessata. Inoltre non si riesce a spiegare come sia potuta avvenire una cosa del genere in questa zona, tant'è che almeno fino alla prima serata di sabato non era stata data nessuna allerta. Meteo specifica, pioveva, ma le condizioni erano buone, ha detto il sindaco della cittadina devastata, Collodel. Intanto le operazioni di soccorso procedono con difficoltà a causa di forti precipitazioni in tutta il nord Italia, che hanno interessato nelle ultime ore anche la Lombardia ed il Piemonte. Allora, grazie a tutti. Allora, grazie.